Ciao A Venezia sotto assedio degli austriaci scarseggiano sempre più i generi alimentari mentre i prezzi vanno alle stelle Il listino ufficiale reca carne di manzo a lire 1,50 la libra circa mezzo chilo Burro a 18 centesimi l'oncia 40 grammi circa uova a 9 centesimi l'una Un pollo magrissimo costava ben 7 lire ammesso che si riuscisse a trovarne uno Le previsioni per domani Nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento dal nord ovest Su costa e zone limitrofe alcune nebbie di notte e in dissolvimento di mattina Dal pomeriggio in prevalenza nuvoloso a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperto Precipitazioni Fino al mattino sul veronese probabilità medio bassa per piovaschi rovesci sparsi sulle zone limitrofe Dal pomeriggio andando dalle zone montane e pedemontane alla costa probabilità medio alta di piogge diffuse Temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno Differenze leggere e moderate rispetto al giorno precedente Dal pomeriggio andando a tratti parzialmente nuvoloso